Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia, nel breve video di oggi vedremo uno degli strumenti della suite GeoGebra e in particolare vedremo lo strumento geometria. Allora è sufficiente andare con un browser internet al sito www.geogebra.org poi vedete in alto a destra c'è questo menu, lo clicchiamo, ci sono tanti strumenti. Quest'oggi noi utilizzeremo la geometria, l'abbiamo già aperta perché ci vuole un poco per far sì che lo strumento si materializzi dentro la finestra dell'internet browser quindi ci vuole un internet un pochino veloce e facciamo subito una prova di come funziona lo strumento geometria all'interno di una finestra browser. Allora noi vediamo oggi il teorema di Pitagora molto velocemente che dice che la somma delle aree costruite sui cateti è uguale all'area costruita sull'ipotenusa del quadrato costruito sull'ipotenusa. Quindi noi facciamo subito un triangolo rettangolo, questo vale per il triangolo rettangolo prendiamo lo strumento punto, vediamo un po' cosa ci viene fuori se ci riesce, vediamo. Noi facciamo il punto A e poi facciamo il punto B e facciamo il punto C. Vedete che già sembra un pochino un triangolo rettangolo. Poi vediamo una fenomenologia interessante secondo la quale a GeoGebra se si selezionano gli elementi dall'alto al basso o da sinistra a destra si comporta in maniera diversa. Allora noi andiamo subito nello strumento, vedete, in fondo poligono e noi ci rendiamo conto, ad esempio se scegliamo lo strumento poligono regolare non va bene perché noi clicchiamo il punto A, il punto B poi lui ci chiede ma di quanti vertici è costituito questo poligono? trattandosi di un triangolo rettangolo mettiamo 3 ma vedete che lo strumento ci costruisce praticamente questo poligono da questa parte qua, facciamo CTRL Z, quindi lo strumento più appropriato è poligono semplicemente perché possiamo fare A, B, stiamo cliccando C e A e vedete che abbiamo costruito praticamente il nostro triangolo rettangolo. allora facciamo con lo strumento muovi, sistemiamo un pochino le letterine perché vengono messe in una posizione un pochino strana un pochino non corretta. Mettiamole così. Allora noi dobbiamo renderci conto se questo è vero o no che è un triangolo rettangolo che questo angolo è da 90 gradi. Allora scegliamo lo strumento angolo, lo clicchiamo e facciamo A, B, riproviamoci A, B, vediamo se viene, un attimo che abbiamo fatto dei pasticci, annulliamo, facciamo angolo, vedete adesso l'ha selezionato A, l'angolo che va da A a B e poi va a C, ecco qua, vedete che viene da 90 gradi, sempre con lo strumento muovi noi ci muoviamo e mettiamo questa scritta, la vogliamo mettere ad esempio qua, mettiamola qua. Adesso dobbiamo costruire i quadrati sui cateti, come si fa? Questa volta possiamo utilizzare sempre lo strumento finalmente poligono regolare ma guardiamo come si comporta GeoGebra geometria. Se noi selezioniamo il lato dall'alto, noi selezioniamo il vertice A e poi B e lui ci fa questa domanda allo strumento, diciamo quattro vertici perché è un quadrato vedete che lui ce lo costruisce a destra e questo ci va bene. Se noi invece lo selezioniamo dal basso verso l'alto, dicessimo sempre quattro, vedete lui lo costruisce a sinistra, quindi facciamo CTRL Z, ricordiamoci questa cosa, quando utilizziamo lo strumento poligono regolare dall'alto verso il basso lo costruisce a destra e dal basso verso l'alto lo costruisce a sinistra. La stessa cosa funziona da sinistra a destra, guardate se noi clicchiamo C e B e ci chiede di quanti vertici è costituito il poligono gli diciamo ok, vedete ce lo costruisce in alto, quindi facciamo CTRL Z, quindi da sinistra a destra lo costruisce in alto, quindi da destra a sinistra ce lo costruisce verso il basso, sempre quattro vertici e abbiamo costruito i due quadrati, adesso facciamo così, abbiamo scoperto che praticamente facendo dal basso verso l'alto, vedete se noi facciamo così e clicchiamo ok, vedete ce lo mette dalla parte giusta e utilizziamo questa strategia, ce lo mette a sinistra, con lo strumento muovi, noi vedete che l'angolo ci è andato a 91 gradi, noi possiamo muoverlo per farsi che si sposta, si sposti diciamo la tipologia di angolo, vedete che adesso se l'abbiamo spostato a mano ma tanto lo dimostreremo, se noi nel menu questo qua vedete diciamo che ci deve essere la calamita sugli incroci della calamita e facciamo una zoomata noi riusciamo a rimetterlo all'incrocio, vedete fa tac e viene a 90 gradi. Allora clicchiamo e coloriamo in maniera diversa solo per motivi diciamo grafici, questo poligono qua, noi clicchiamo il tasto del colore, aumentiamo ad esempio a 75 e lo mettiamo arancioncino, la stessa cosa, noi vogliamo che i quadrati costruiti sui cateti diciamo si distinguano dal quadrato costruito sull'ipotenusa, ecco qua, poi clicchiamo questo qua e noi questo qua lo mettiamo, facciamo, inventiamo un colore verde e sempre con l'opacità al 75%. Se noi clicchiamo, vedete su questo strumento qua, viene impostazioni e noi gli possiamo dire che al posto dell'etichetta ci deve mettere il valore dell'area perché altrimenti noi non sappiamo di che area è, vedete e viene di area 25 per poter controllare se è vero che la somma delle aree di queste due geometrie equivale all'area di questa geometria qua. Quindi selezioniamo lo strumento sempre con nuovi, poi facciamo i tre pulsantini, andiamo su impostazioni e gli diciamo che al posto dell'etichetta mi ci deve mettere il valore, chiudiamo e questo è il valore dell'area, 4 per 4 fa 16. Facciamo la stessa cosa per questo elemento qua, impostazioni e gli diciamo che al posto dell'etichetta ci vuole il valore dell'area ed ecco che ci fa 9. Allora adesso riusciamo a capire che cosa dice il teorema di Pitagora, se il triangolo ha un angolo di 90 gradi, quindi è un triangolo rettangolo, la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti equivale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa, 9 e 16 fa 25. Questo tipo di teorema vale quale che sia la lunghezza del cateto, io posso allungarlo quanto mi pare, vedete fa 36 e 9 fa 45, posso farlo anche cortissimo, 9 e 1 fa 10. La cosa che non posso fare è trasformare questo triangolo, per esempio da rettangolo ad ottusangolo, vedete che la somma non torna più perché 13 e 9 non fa 34, oppure trasformare i triangoli in un triangolo acuto perché vediamo che 13 e 9 fa in pratica non fa 10. Allora questo teorema qui vale solo se il triangolo è rettangolo, 9 e 9, 18. La cosa carina della suite GeoGebra online, che pur non essendo un applicativo installato nel computer ma quindi può essere utilizzato sia con Windows, con Linux, con i computer Apple e funziona anche all'interno degli smartphone, è che se noi clicchiamo questo menu qua, vedete ci dà la possibilità di scaricare quello che abbiamo fatto, lo clicchiamo e di scegliere il formato, noi scegliamo il formato PDF, vediamo che in un battibaleno praticamente ci subito estrae ed esporta quello che abbiamo fatto in un PDF all'interno del nostro computer, che è questo qua. Il PDF ovviamente è un formato che non è dinamico nel senso se noi lo doppio clicchiamo possiamo consegnare questo lavoro in formato PDF ma evidentemente noi non possiamo muovere, diciamo non possiamo muovere i vertici, non possiamo ridimensionare, però è una maniera per esportare il proprio lavoro, il proprio compito per esempio per consegnarlo al professore. Ovviamente se noi vogliamo che questa struttura continui a funzionare dinamicamente io devo rimanere all'interno dell'applicativo costruito nel browser internet e se voglio lo devo salvare in un formato che è tutt'alfatto differente. Lo posso salvare anche dentro il mio account, vedete io posso avere in GeoGebra, in GeoGebra io posso avere un account all'interno del quale io posso entrare, datemi un attimo che vi faccio vedere tutte le possibilità, se ho un account Google, Office 365, Microsoft, Facebook, Twitter. Quindi se io voglio fare un exporting che sia diciamo un exporting passivo che non possa essere utilizzato ma semplicemente una visualizzazione io non posso muovere i vertici e non posso manipolare le geometrie faccio il PDF ad esempio ma se io voglio che questo foglio di lavoro possa essere modificato in futuro io posso andare in questo menu qua, fare salva e aprire per esempio all'interno o fare salva e scegliere questo, per esempio posso fare anche scegliere questo tipo di formato e lo faccio nel computer oppure posso creare un account GeoGebra con altri account che ho e salvarlo online nel cloud all'interno del mio account. GeoGebra, bene il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile e sia stato per voi interessante, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.